Qualche consiglio per organizzare una mostra personale di pittura. Prima cosa, dovete avere le opere. Sembra una stupidaggine, ma non è così. Ogni mostra è un progetto, è un po' come un libro. Ogni opera è un capitolo e il libro è la mostra, cioè una narrazione all'interno della quale ci sono tanti elementi diversi. Le opere. Si tratta di quello che l'artista vuole raccontare al pubblico, vuole condividere con chi visita la sua mostra, con chi guarda le sue opere. Quindi, prima di tutto, è importante che in un'esposizione personale tutte le opere siano collegate da un argomento comune, o affrontino comunque una tematica che in qualche modo le lega. E per proporle al vostro pubblico avete due strade. O prima fate tutte le opere, o avete tutte le opere, e poi cercate uno spazio adatto, o altrimenti, se avete già uno spazio disponibile, se vi hanno invitato a esporre da qualche parte, e sapete come è fatto questo spazio, potete progettare le opere appositamente per quello spazio. Chiaramente, se l'invito arriva oggi, la mostra magari la si fa fra sei mesi, logicamente, non domani.